L'immunoterapia in pochi anni è diventato il capisaldo della cura del carcinoma a cellule renali, ovviamente delle forme avanzate. Uno studio presentato da poco all'ASCO GU, genito urinary, dimostra l'efficacia dell'immunoterapia anche per tempi molto lunghi, fino a otto anni. Noi ci facciamo spiegare questo studio e che cosa si tratta, quali sono stati i risultati e soprattutto quali sono le ricadute pratiche da un vero esperto dal dottor Fabio Calabro. Professor Calabro, l'immunoterapia come ha cambiato la proniosi del carcinoma a cellule renali e se possiamo dire che è diventato un nuovo standard terapeutico per le forme avanzate? L'immunoterapia ha sicuramente cambiato la proniosi di questi pazienti e in maniera particolare, divertente sotto un certo punto di vista, è quasi un ritorno al passato perché i primi studi del carcinoma renale sono stati fatti proprio con l'immunoterapia, con l'interferone. Poi c'è stato l'avvento degli inibitori di rosenchinasi e dagli anni 2000, dalla fine degli anni 2000, si è aperto il varco dell'immunoterapia che è stata utilizzata in due modalità diverse o con una combinazione di soli immunoterapici o con una combinazione di immunoterapici associati ai inibitori di rosenchinasi. I risultati sono, diciamo, in entrambi i casi sono francamente molto interessanti e quindi ufficialmente l'immunoterapia entra nell'armamentario di questa malattia e l'incremento di sopravvivenza rispetto alla categoria di farmaci precedenti, quindi i farmaci antiangiogenici come il sunitinib è ormai ufficiale e in prima battuta, ove possibile, deve sempre essere considerata la possibilità di fare immunoterapia. C'è uno studio molto recente presentato all'ASCO Genito Urinary Cancer Symposium che ha dato dei risultati molto interessanti sull'utilizzo a lungo termine dell'immunoterapia. Ci dice qualcosa su questo studio? Beh, il Checkmate 214 effettivamente è stato il primo studio, un studio in un certo senso rivoluzionario, anche perché è stato il primo e l'unico a utilizzare due immunoterapici in combinazione. Lo studio aveva come braccio di comparazione lo standard dell'epoca che era il sunitinib ed era dedicato all'epoca, è stato dedicato solo ai pazienti con prognosi intermedia o sfavorevole, anche se nello studio c'erano anche pazienti a prognosi cosiddetta favorevole. Ebbene, questo studio è lo studio che fra tutti quelli di combinazione in prima linea ha il follow up più lungo, siamo ad oltre 8 anni e la cosa che si è verificata e che è stata presentata appunto all'ASCO GU del 2024 è che mentre si conferma il vantaggio in sopravvivenza nella popolazione a prognosi intermedia è sfavorevole, le curve della popolazione a prognosi invece favorevole si sono incrociate rispetto al trattamento standard, per la prima volta si vede un vantaggio della sola immunoterapia anche in questa popolazione. Ripeto, lo studio non era dedicato a questa popolazione, ma il follow up è così lungo e il dato devo dire è in qualche modo interessante, viene quasi da pensare che pazienti nei quali si possa aspettare, non ci sia fretta di ottenere una risposta, si può validare questa combinazione perché il dato a lungo termine effettivamente è significativo. Professore, come sfruttare questi dati nella pratica clinica quotidiana e quali possono essere le applicazioni possibili, quali le tipologie di pazienti? Ripeto, lo studio era dedicato a pazienti con prognosi intermedia o sfavorevole ed è una combinazione che già oggi viene rutinariamente utilizzata. Ci sono vantaggi e svantaggi dalla doppia combinazione di immunoterapici, i vantaggi sono il fatto che i pazienti fanno la combinazione dei due farmaci per via endovinosa per quattro somministrazioni e poi proseguono con una sola somministrazione, un solo farmaco una volta al mese fino ad eventuale progressione e non hanno necessità di assumere farmaci continuativamente per via orale. I potenziali svantaggi sono il fatto che la combinazione di due immunoterapici può avere un rischio di eventi autoimmunitari maggiore rispetto alla combinazione con il pitore tirosinchinasi e il fatto che non sono previste riduzioni di dose in caso di tossicità importanti si deve omettere il trattamento. Dall'altro lato c'è però un dato che è molto particolare, è veramente per la prima volta visto in oncologia, cioè che pazienti che nello studio abbiano interrotto il trattamento per eventi correlati all'immunoterapia hanno le stesse possibilità di risposte, le stesse sopravvivenze di pazienti che invece continuano il trattamento. Questa è una cosa che si è vista solo con questa combinazione.